Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Roberto Di Giacomo. Al momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della regione toscana, sulla FIPILI verso Firenze per lavori e rallentamenti tra Empoli Est e Lastra Signa, in direzione Livorno, traffico rallentato tra Lastra Signa e Montelupo Fiorentino. Ricordiamo che si tratta di interventi per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restricimenti per corsi alternativi sulla strada provinciale 12 o per viaggi più lunghi sull'autostrada 11. La stradale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. Prima di chiudere vi segnaliamo che il volo Firenze-Zurigo delle 14 è segnalato in partenza e ritardo alle 14.25. Muoversi in Toscana Info in servizio in collaborazione con Regione Toscana, città e metropolitane e comuni di Firenze. Buon viaggio! Grazie!